Il tema della sostenibilità è un tema attualissimo per i soci produttori del Consorzio Vini Venezia, noi ci troviamo nel Veneto orientale e qui la vocazione della sostenibilità arriva da un paio da anni, è un tema futuribile che sicuramente sia l'atto promozionale ma anche economico deve essere perseguito. Siamo in un territorio in cui si produce agricoltura biologica, viticoltura biologica da almeno 40 anni e quindi le menti sono molto sensibili su questo tema. Sostenibilità che deve essere sicuramente economica ma come dicevo anche ambientale, partendo dalla produzione stessa, quindi dalla coltivazione della vita, dalla gestione del terreno per arrivare alla trasformazione del vino e la commercializzazione vera e propria. Quindi diverse sono le realtà che hanno in questi anni convertito le proprie aziende, chi verso una direzione più spinta di sostenibilità e quindi la produzione biologica, chi invece verso la sostenibilità è anche certificata, certificata da alcuni organismi di controllo presenti nel territorio che validificano il lavoro, lo sforzo di oltre 2.000 soci produttori presenti nel territorio del Consorzio Vini Venezia, dell'Isombra Maggiore, della Venezia DOC e del Piave DOC. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.